Difficile rialzare la testa per chi lavora nel mondo della ristorazione. Dal 18 maggio in tanti hanno rialzato le serrande del proprio locale, ma il coronavirus ha stravolto anche il loro modo di lavorare. Una strada tutta in salita per i ristoratori del Pesarese e non solo. Alla fine dal governo hanno fatto sapere che non ci sarà nessuna chiusura anticipata per bar e ristoranti, ma che ha perso incassi enormi durante il lockdown sopravvive con fatica. I ristoratori continuano a lavorare nel rispetto delle norme anti-covid, tavoli distanziati di almeno un metro l'uno dall'altro con la conseguente riduzione dei coperti. I ristoranti secondo me in questo periodo non è che hanno una situazione né di vantaggio né di svantaggio. L'unica cosa è che sicuramente con un'azione di terrorismo del genere in cui si mette e si danno a volte delle notizie inesatte, tipo la chiusura del ristorante alle 11 di sera, uno fa passare l'idea che il ristorante è un punto in cui si potrebbe contagiare. Invece in realtà il ristorante è un posto sicuro, perché sono state adottate tutte le normative. Se aumenta il terrorismo, già che non c'è la gente, e la gente non è sicura ad andare al ristorante, rischieranno anche di chiudere molti locali. Quindi a posto di fare terrorismo, secondo me è meglio che lo Stato metta a disposizione dei fondi per garantire ulteriormente invece la sicurezza all'interno dei locali. Quello che se riuscite a fare, se va bene, è ripareggiare con i numeri dell'anno scorso. Qualcuno ha fatto qualcosina di più, ma recuperare quello che è stato perso è quasi impossibile. Quello che invece mi auspico è che la situazione non aggravi la situazione economica dei ristoranti, perché altrimenti dopo iniziano i licenziamenti veri. Dal primo di luglio, in tutta sincerità, il lavoro è andato bene. È andato bene fino ad ora. Ha ricopiato quasi l'anno precedente, diciamo. Di fuori dall'Italia si è visto praticamente solo qualche tedesco, qualche svizzero. Quindi manca, nonostante tutto, una bella fascia. Però la gente del posto, la gente italiana, si è mossa abbastanza bene, almeno per la nostra zona. Che cosa è cambiato nel modo di lavorare? Molta più attenzione. Dobbiamo dedicare alla pulizia, alla sanificazione, istruzione per i ragazzi che lavorano da noi. Si vede proprio questo timore nei clienti. Quindi abbiamo eliminato dei posti, ci è stata data un'area aggiuntiva. La gente viene, però se prenotano magari chiedono di essere messi sull'esterno, se si può e se si può stare distanziati. Ma questo l'abbiamo sempre fatto. È chiaro che quando d'inverno è tutto chiuso si dovrà ridurre di molto la quantità di persone oppure si terrà comunque sollevate le tende in modo che possano mangiare ugualmente. Grazie.